L'America non è soltanto una parte del mondo, l'America è uno stato d'animo e una passione. Ecco, credo che sia alla fine questo il motivo che ha mosso un po' tutti noi nel lavorare a questo progetto. Ricordando questa frase del regista Mario Soldati, il ministro degli esteri Giulio Terzi ha lanciato insieme al segretario di Stato americano John Kerry l'anno della cultura italiana negli USA, che vedrà oltre 200 eventi in 50 città per tutto il 2013. L'incontro il 28 febbraio alla Farnesina è servito per presentare i principali appuntamenti in calendario che offriranno una grande opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e scientifico italiano. Durante la presentazione Terzi e Kerry hanno ribadito la comune eredità di valori dei due paesi e la solidità dei rapporti bilaterali. Quindi una grande storia comune, quella che celebra l'anno della cultura italiana negli Stati Uniti, che non poteva essere solo una rassegna di grandi eventi culturali, di esposizioni uniche, come quella del David Apollo di Michelangelo a National Gallery di Washington. L'anno è stata anche l'occasione per riaffermare insieme questi valori che ci uniscono alla base della nostra unica alleanza, della nostra straordinaria partnership. The reason for being in Europe and in Italy today is purposeful. It's not an accident. It's not just here for this meeting. I wanted to come here at the request of President Obama on his behalf to say to all of you that the European relationship could not be stronger, could not be more important, that everything that we are doing, with respect to not just culture, but with respect to diplomacy, counterterrorism, counter-narcotics, Afghanistan, the Middle East, Libya, you name it. Siamo entusiasti sostenitori di questa idea lanciata dal Presidente Obama per un'unificazione di mercati tra Unione Europea e Stati Uniti con il Transatlantic Trade and Investment Partnership. Ricerca, scoperta e innovazione, sono queste le chiavi dell'iniziativa che riflette le diverse espressioni della creatività italiana, dalla musica alla scienza, dal teatro all'arte rinascimentale fino al cinema. Vero cardine della strategia di quest'anno della cultura è il modello di partnership pubblico-privato per la promozione del sistema paese e delle eccellenze italiane. It may be that 2013 has been labeled the year of Italian culture, but every single one of you know that since 1492, and Cristoforo Colombo, and then Amerigo Vespucci a few years later, it's been the centuries of American and Italian culture. It really has been. And, you know, we have generations of people who have grown up, exchange students coming back and forth, Italian students coming to America, Americans coming here. Abbiamo voluto dare un'attenzione particolare alle nuove generazioni nel programma, sappiamo di contare su un vero e proprio moltiplicatore di cultura, se possiamo chiamarlo così, più di 10.000 giovani italiani ricercatori studenti negli Stati Uniti e che sono anche coinvolti nei programmi, nell'apprendimento e nella diffusione della lingua italiana.